Io non posso soccorrere un paziente. Io non posso guidare l'ambulanza. Io non posso fare soccorso. Io non posso fare volontà comigo. Io non posso soccorrere un paziente. Io non posso fare protezione civile. Io non posso montare una tenda di protezione civile. Io non posso fare soccorso. Noi possiamo perché noi siamo.